Sono passati due anni dalla tempesta Anna che a fine agosto 2020 devastò il territorio di Arzignano, toccando anche i comuni Limitrofi, Lovest, Vicentino. La pioggia, le forti raffiche di vento spazzarono via alberi, tegole, provocarono danni alle abitazioni, alle aziende, alle scuole, a molti edifici pubblici, ad oggi ripristinati con interventi per circa 3 milioni di euro. Ci siamo arrangiati con risorse proprie perché dal Ministero purtroppo non è arrivato niente, nemmeno i 650 mila euro che erano previsti per le scuole, al momento non è arrivato niente. Siamo riusciti quindi a farvi fronte con bilancio proprio e con una parte appunto dell'assicurazione del comune. Abbiamo ancora un paio di edifici da sistemare ma perché sono edifici soggetti a vincolo ambientale e quindi... Quali sono? La chiesa di San Rocco e l'ex casa del custode di Villa Brusorosco, o meglio la sede della Croce Rossa. Sono degli edifici vincolati per cui abbiamo dovuto anche presentare un progetto ai beni ambientali e alla soprintendenza. È un progetto che è stato approvato quindi contiamo entro la fine dell'anno di chiudere veramente questo capitolo. Tra le zone più colpite ci fu San Zeno dove oggi resta a terra la Croce del Campanile caduta a seguito di quella tromba d'aria poi sostituita. Questa è la scuola appunto di San Zeno, il tetto è stato praticamente rifatto e più tutti gli infissi poi c'erano infiltrazioni d'acqua quindi è stato rivisto anche tutto l'interno tinteggiato e via dicendo. Altre scuole in maniera minore quindi cito ad esempio la scuola Fugazzaro del centro, cito la scuola San Rocco appunto nel quartiere di San Rocco, la scuola di Castello, ricordo poi che sono state danneggiate anche le mura del Castello di Arzignano e così poi tanti altri edifici. Anche il palazzo comunale abbiamo dovuto appunto controllare e sistemare. Quindi bene o male tutti gli edifici pubblici sono stati toccati e quindi c'è stato un lavoro di controllo e manutenzione. Intanto dopo due anni sono arrivati i risarcimento ai privati. Da ultima ricognizione avevamo dei danni ai privati per un milione e quattro tra beni immobili e beni immobili e sono arrivati proprio un paio di settimane fa 500 mila euro per i privati e stiamo aspettando 200 mila euro per le imprese. Naturalmente non copre tutto il danno che il privato ha avuto, ad esempio per l'abitazione siamo intorno al 40% dell'ultima ricognizione che è stata fatta.